È una grande emozione vincere lo scudetto, riportare lo scudetto a Pescara dopo tanto tempo, vincere lo scudetto in Abruzzo, in questo momento di crisi dello sport è chiaro che è una grande soddisfazione. È andata bene, adesso ci riproveremo, ci riproveremo sia col Calcio 5 che con il Pescara, vediamo se l'anno prossimo riuscirò a vincerli tutti e due. È estate, i giornalisti devono scrivere, voi dovete fare le trasmissioni, noi speriamo invece di poter andare via, però siccome tanto non si concretizzerà mai niente, rimarremo noi e a chi non siamo simpatici dovranno sopportarci, agli altri noi purtroppo saremo qui e cercheremo di fare il nostro meglio per portare il Pescara sempre più in alto. Noi già l'altra volta quando siamo andati in Serie A siamo stati premiati qui, sono venuto io, perciò per noi questo è molto importante, è un premio importantissimo questo del Roghi Marciano, in Abruzzo è chiaramente forse il premio più importante sullo sport e noi siamo felici di essere qui e onorati di ricevere questo premio anche come Calcio 5, visto che è la prima volta che vinciamo lo scudetto e che veniamo premiati per il Roghi Marciano. Abbiamo preso Borrudo, abbiamo preso anche un ottimo italiano perché comunque ci sono delle regole nel Calcio 5 un pochino strane, però ci dobbiamo adeguare tutti. Perciò abbiamo anche tre buoni giocatori italiani, noi in Rosa, l'anno prossimo. Poi Borrudo erano tre anni che noi avremmo voluto portarlo a Pescara perché comunque è un giocatore che piace a tutti noi, perciò anche al vecchio allenatore, all'allenatore che avevamo prima, adesso ci siamo riusciti e siamo contenti, però non è ancora finita. Grazie. 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 Grazie.